Ma lo sapete che il mal d'Africa si può provare anche senza uscire dal nostro continente? Esatto, anzi, senza uscire dalla nostra nazione. Sono in Italia e ho passato una notte in glamping davvero fantastica. Sembrava di essere in Africa e invece ci trovavamo presso il parco Zoom in questo fantastico glamping temporaneo.